I miei cari confratelli SDB, mia carissima famiglia Salesiana, carissimi giovani animatori, giovani catechisti, a tutti un saluto oggi quando abbiamo finito il capitolo generale ventottesimo. Ieri abbiamo chiuso le porte di questi lavori capitolari, un capitolo generale ventottesimo che io ritengo che ricorderemo come veramente speciale per tutto quello che abbiamo dovuto vivere e le risposte che abbiamo dovuto dare nel tempo che venivano tutte le cose di questa pandemia, fino al momento dove le autorità hanno detto che non si può avere raduni delle persone e abbiamo detto, bene, anche noi con un senso di responsabilità e cittadinanza dobbiamo finire. Per un capitolo generale ventottesimo, che credo si possa dire che è stata veramente una grande esperienza di grazia e di presenza permanente dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha accompagnato questo bellissimo clima, rapporti bellissimi, una bellissima esperienza di fraternità e un illuminarci nella mutua condivisione. Allo stesso tempo, trovarci qui a Valdocco, nella nostra culla, qui dove tutti siamo nati, in Don Bosco, ha fatto molto speciale questo capitolo. Trovarci tutti i giorni qui, in questa basilica di Mario Sidiatrice, pregare tutti i giorni qui, pregare nella presenza del nostro amato Padre e sentirci in questo cortile dove sono stati Magone, Domenico, Sabio, Rua, Caliero, tutti, ci dice che la realtà che ci accoglieva era molto speciale. Qui, dove abbiamo tanti anche dei nostri santi, Don Bosco, Madre Mazzarello, Domenico, Sabio, Beato Michele Rua, Beato Finipo, Rinaldi, tutto ci parla anche di cammino di salesianità, ma un cammino che è di santità. Allora, non posso fare un riassunto breve di tutto il capitolo, per questo faccio una scelta di due punti molto semplici. Uno viene del momento della settimana vissuta con giovani di tutto il mondo. Hanno potuto venire 16, altri, per i motivi della pandemia, non sono arrivati. È stato bellissimo trovare i giovani, ascoltare a questi giovani, e vi dico che loro ci hanno lasciato un messaggio molto significativo quando ci hanno detto carissimi salesiani, noi vi amiamo. Carissimi salesiani, noi abbiamo bisogno della vostra presenza in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di essere accompagnati da voi e da tanti nella nostra famiglia salesiana. Vi chiediamo di essere anche amati da voi e vi chiediamo specialmente, chiediamo da voi, di avere in voi i salesiani che possano mostrarci come è l'amore di Dio verso di noi. Non ci hanno chiesto delle attività, non ci hanno chiesto altre costruzioni, ci hanno chiesto mostrarci l'amore di Dio verso di loro. E una seconda realtà molto bella, molto presente in tanti momenti è stata questa. La decisione, la scelta di dire, dire oggi salesiano, deve significare portare nel cuore specialmente ai ragazzi, le ragazze, i giovani, specialmente i più poveri, i più bisognosi, i più sfruttati, esclusi. Questo è stato veramente una voce forte, un grido e io ritengo che è molto essenziale. Finisco dicendo che in questi giorni dove una grande pandemia colpisce tutto il mondo, tutte le nazioni, mette in una grande crisi economica, ci parla della fragilità umana, ci parla nella nostra libertà di come un virus può veramente farci vedere che non siamo onnipotenti, però Dio sta presente anche nei tempi difficili. Perciò la fede e la speranza, come nei tempi del colera con Don Bosco, deve essere la nostra guida. Carissimi tutti, un grande saluto, come ho detto alla fine di questo capitolo, che è stato un tempo di grazia. Ci comunichiamo in altri momenti, ma adesso, a nome di tutti i capitulari, il nostro saluto affettuoso e il mio molto particolare, con la preghiera qui nella presenza della Madonna. Ciao, ci vediamo. Ciao, ci vediamo.